Grazie a Gianni, grazie a tutti voi, grazie alle donne e agli uomini che rendono possibile ogni giorno la grande impresa di riportare l'Italia là dove deve stare, alla guida del cambiamento, il punto di riferimento in Europa e nel mondo, perché noi siamo l'Italia, non siamo un insieme indistinto di persone. Io non credo che in realtà la motivazione l'abbia data io, lo dico con rispetto a Gianni Armani cui va la gratitudine mia, del Ministro del Rio, di tutto il Governo per il lavoro che sta svolgendo, la motivazione l'avete data voi, lavoratrici e lavoratori che ci state mettendo l'anima e che state dimostrando che nessuna impresa è impossibile per il nostro Paese. Lo avete fatto in particolar modo in un momento difficile, io vorrei che proprio mentre stiamo vedendo il traguardo dell'ultimo chilometro, gli ultimi 800 metri, 180 metri di galleria, gli ultimi 800 metri di restringimento, il primo pensiero fosse per chi ha perso la vita qui, in particolar modo per Adrian, per la sua famiglia, per i suoi colleghi. L'impegno che abbiamo messo per garantire ulteriormente la sicurezza è esattamente anche nel suo nome. Quando siamo partiti ridevano di noi, quando abbiamo detto finiremo quest'opera nel tempo previsto. Noi abbiamo detto il 22 dicembre noi percorreremo questa infrastruttura da Salerno a Reggio Calabria, ho già detto a Del Rio che per punizione guido io, lui è preoccupatissimo per questo. Andiamo insieme, la scorta se vuole segue, solo io e te, così chiacchieriamo anche con tutte le nostre vicende aperte. Partiamo il 22 dicembre, ci andiamo piano, seguiamo tutto il percorso, però in quel momento, il 22 dicembre, noi avremo l'intera infrastruttura pronta senza alcun restringimento. Questo deve essere chiaro in particolar modo a tutte le amiche e gli amici della stampa internazionale e nazionale che ridevano quel giorno. Il 22 dicembre la Salerno a Reggio Calabria sarà terminata come avevamo promesso perché l'Italia mantiene i propri impegni e nessuno può sorridere dell'Italia. Si può sorridere in Italia, si può star bene in Italia, si può scherzare in Italia, ma è finito il tempo in cui si ride dell'Italia. L'abbiamo detto a livello dei vertici europei, lo abbiamo detto in tutte le sedi. E perché? Per merito del governo? No. Per merito di chi ci sta lavorando e di chi ci crede. Grazie dunque innanzitutto ad Anas. Anas ha tante partite aperte davanti, in Italia e all'estero. Anas sempre di più dovrà fare per il mezzogiorno, caro Mario hai visto i numeri degli investimenti del progetto pluriannale per il mezzogiorno, ma dovrà fare sempre di più a livello internazionale, non soltanto in Italia. Perché è un punto di riferimento e dovrà accompagnare le nostre grandi aziende che sono un punto di riferimento nell'ingegneria e nelle infrastrutture ad avere occasioni ed opportunità più forti in tutto il mondo. Io so però che l'altra volta nel dirvi del 22 dicembre avevo preso anche un altro impegno, quello sulla 106. Ne avevamo discusso e allora posso ben dire che sono soltanto in ritardo di una settimana perché avevo detto che veniva il 20 luglio, ma il 26 è buono allo stesso, l'importante è che il 22 dicembre non abbia alcun ritardo. Però con Graziano ne abbiamo parlato, i progetti sono ritornati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la settimana scorsa, e quindi di conseguenza siamo nelle condizioni di poter chiudere anche quella delicata e intricata vicenda burocratica per poter far partire i lavori anche sulla 106. Questo naturalmente di per sé non è che automaticamente consente prospettive di lavoro per i singoli, ma certo è un totale di oltre un miliardo di euro, un miliardo e 200 milioni di lavori, che vuol dire non soltanto una cosa utile per il Paese e per la Calabria, ma anche un'occasione importante di lavoro per gli operai di questa infrastruttura, perché come sapete, come è stato più volte fatto notare, anche nelle slide che sono girate, l'80% di chi ha lavorato è di questa terra ed è importante che si possa combattere la piaga della disoccupazione anche attraverso gli investimenti pubblici, perché una certa cultura tecnocratica negli ultimi anni ha fatto bloccare gli investimenti pubblici, non capendo che gli investimenti pubblici vanno fatti bene, vanno fatti con il rispetto delle regole, vanno fatti combattendo l'illegalità e la corruzione, vanno fatti quelli utili e non quelli inutili, ma vanno fatti gli investimenti pubblici, perché un Paese che smette di fare investimenti pubblici si sta tagliando le gambe da solo. Detto della 106, su cui peraltro continueremo con il Presidente Oliverio, con tutta la Regione Calabria e con lo straordinario lavoro e determinazione del Ministro Del Rio, credo che il grazie vada detto alla CMB e alla Ghella, a Zini e a Ghella che hanno parlato prima, grazie di cuore per come rappresentate l'Italia in questo Paese e all'estero. L'abbiamo già detto l'altra volta, ci siamo visti in tanti luoghi, avete tante partite aperte, ci siamo rivisti in Iran, altro luogo nel quale ci sono alcune opportunità, ma dall'Argentina all'Australia, dagli Stati Uniti fino all'estremo Oriente, c'è spazio e bisogno, fino alla Norvegia, penso a un'operazione che Ghella farà partire il 5 di settembre, penso a cos'è l'alta velocità, l'alta velocità norvegese, penso anche alle iniziative in Italia, da Milano fino al tunnel del Brennero, bene, questo dimostra una cosa, che l'Italia quando fa la sua parte è un punto di riferimento nel mondo, questa struttura qui, noi l'abbiamo raccontata per quello che è stato un problema, ve l'ha detto Armani chiaramente, se un'opera pubblica parte nel 64 e dal 64 ad oggi, oggi è la prima volta in cui si potrà fare interamente a quattro corsie pur con il restringimento, quindi c'è il ristringimento di 800 metri di questa galleria prima del viadotto Italia, ma se c'è finalmente per la prima volta dal 64 ad oggi 52 anni, la prima volta in cui si può percorrere interamente, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, quindi questo è il primo punto, il punto di partenza. Detto questo però, stiamo parlando di questo viadotto che è il più alto d'Italia e il secondo d'Europa, siamo a quanti metri siamo qui in questo momento? 260 il viadotto, ma all'altitudine quanto siamo adesso qui? qui siamo quasi al balico, quindi siamo intorno ai mille metri più o meno. Nessuno può immaginare che un'opera come questa sia una delle autostrade più alte d'Europa, uno pensa che le autostrade più alte d'Europa siano un luogo dove ci sono montagne di confine, nei grandi, tra l'Italia e sulle Alpi, invece siamo qui. Ecco, io trovo che dobbiamo anche avere l'orgoglio di quelli che hanno fatto l'impresa, come è stato detto. Io mi limito allora a tre considerazioni e poi apriamo anche perché altrimenti la faccio troppo lunga. Primo punto, c'è un grande tema infrastrutture in Italia. Noi dobbiamo avere consapevolezza che le infrastrutture sono lo strumento attraverso il quale si esce dalla crisi, uno degli strumenti, perché non saremo competitivi nel mercato tecnologico del futuro solo se non avremo la banda larga ovunque, la Gigabit Society, cioè la società nella quale si arriva a una velocità enorme di diffusione della banda larga. La Calabria sta lavorando, ma ero la settimana scorsa in uno dei distretti più interessanti, tra Novara e Omenia, Verbania, va portata dappertutto la banda larga. Claudio De Vincenti ci sta lavorando, credo che le prossime regioni sulle quali usciremo con il piano per le aree C e D, credo che entro le vacanze. De Vincenti ha detto che non andrà in ferie finché non pubblica tutti i bandi, quindi fategli un applauso per chi ha deciso di non andare in ferie finché non pubblica tutti i bandi. Ora voglio vedere come fa perché sono molto contento, però questo è un pezzo di infrastrutture. Accanto a questo le infrastrutture nostre devono essere un elemento di orgoglio. Per questo lotta senza pietà alla corruzione che ha in molti aspetti non soltanto rubato dei soldi, ma ha rubato il futuro perché ha tolto l'immagine di un paese capace di far funzionare le cose. Noi con la lotta senza pietà alla corruzione che stiamo facendo saremo nelle condizioni di raccontare nel mondo che quando c'è una grande opera pubblica o privata da fare, le nostre aziende, i nostri operai, le nostre lavoratrici, i nostri lavoratori, i nostri ingegneri sono i più bravi del mondo a realizzare opere che per altri sembravano e sembrano impossibili. Primo tema, orgoglio Italia sulle infrastrutture. Secondo tema, c'è un fatto, non ci prendiamo in giro. Questa è l'autostrada che viene considerata tutte le volte esodo, 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 problemi, la strada di Reggio Calabria è bloccata. Voi ci scherzate sopra e ci ridete sopra, ma questo è stato uno degli elementi di blocco per il turismo in mezzogiorno. Se voi pensate che la Calabria, che sicuramente dovrà fare di più, sempre di più, e Mario ne è il primo ad essere consapevole dal punto di vista delle strutture ricettive, degli investimenti, della qualità delle offerte e dell'accoglienza, ma se pensate che il mezzogiorno raccoglie più o meno lo stesso numero di turisti che raccoglie la sola provincia autonoma di Bolzano, tutto il mezzogiorno Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, vi rendete conto che c'è una contraddizione assurda. Fare un grande piano per il turismo del Paese passerà naturalmente anche dalla possibilità che sia lo Stato e non le singole regioni a gestire la promozione turistica, perché siamo d'accordo su questo, questo è uno dei punti del referendum, cioè riportare il turismo ad avere un progetto strategico come Italia. Tu vai in Cina e hai bisogno già di spiegare che cos'è l'Italia dal punto di vista turistico, figuratevi se possiamo continuare a andare con 20 regioni sparpagliate, quindi questo è uno dei punti, ma paradossalmente questa infrastruttura va anche nella direzione di sostenere il turismo, perché se come ha detto Graziano, mi spiegava Graziano mentre venivamo giù e come ha spiegato Gianni Armani mentre parlava, questa infrastruttura diventerà non più l'infrastruttura degli sprechi e dei ritardi, ma un'infrastruttura tecnologicamente all'avanguardia, con la banda larga per poter consentire ogni tipo di informazione e che permetterà una velocità di spostamento, sempre nel rispetto del codice della strada, bene, saremo di fronte a una rivoluzione per il turismo. Il primo elemento chiave per il turismo accanto alla qualità dell'accoglienza è l'accessibilità e la qualità dell'accessibilità. Terzo e ultimo punto, e me lo permetterete perché ci tengo da morire, in mezzogiorno. Un anno fa la discussione era tutta soltanto in negativo. Oggi vediamo i primi dati, non sono dati che a noi bastano, vediamo ancora quanto è alta la disoccupazione giovanile, vediamo quanto è alta la necessità di infrastrutture, quanto è emesso nel piano 12 miliardi e 800 milioni nel piano pluriennale per il mezzogiorno. Ma quello che serve adesso è che ci credano le cittadine e i cittadini del sud. Lo voglio dire, buoni un attimo, perché questo è un punto fondamentale, mi accusano di fare sempre il racconto soltanto in positivo, mi dicono che stai sbagliando Matteo, tu racconti soltanto le cose belle. Non è così. Io oggi vado in Molise con De Vincenti a firmare il patto per il Molise, quello che con Mario Liverio abbiamo firmato il 30 di aprile sotto i bronzi di Riace, quindi una location che in qualsiasi parte del mondo farebbe venire meno il respiro, anche il Reggio Calabria fa venire meno il respiro, ma bisogna che siamo più bravi, anche su questo, a coinvolgere, a raccontare, a spiegare che cosa enorme è quella. Bene, noi abbiamo già firmato con Mario questo patto, adesso vado a firmarlo con frattura. E parto dal Molise, entrando in Molise non vado soltanto a visitare le aziende che pure ci sono, che stanno funzionando, o a firmare il patto. Mi fermo a San Giuliano di Puglia, dove 14 anni fa accadde quello che tutti noi ricordiamo in quella scuola, con quei bambini. E vado a incontrare quei genitori di quei bambini che da 14 anni sentono un'assenza che ogni giorno fa ancora più male, che noi siamo abituati a metterci alle spalle le storie brutte, a dimenticarle dopo un po'. Per quelle famiglie non è una ferita che si può cicatrizzare. E vado lì perché lo Stato in questi anni non ha mantenuto l'impegno con queste famiglie. Come va a dare dei risarcimento e non l'ha fatto. Adesso finalmente si è sbloccata tramite l'ultimo decreto legge questa brutta e lunga questione. Ma vado soprattutto a dire che noi non siamo quelli che pensano che il Paese vada tutto bene e vada raccontato soltanto a colori. ma siamo convinti che anche di fronte ai problemi l'Italia è nelle condizioni di solidarietà, di umanità per affrontare le difficoltà ed è nelle condizioni di superare i limiti. Questo è il punto chiave della stagione che stiamo vivendo. C'è una parte di noi che tutte le mattine si alza e spera che le cose vadano male per fare l'elenco delle cose che sono andate male. Per aggiungere un punto al cahier d'Oléans, per aggiungere un elemento di contestazione. C'è una parte di italiani che pensano soprattutto tra i politici italiani che se tutto va male è quasi meglio almeno possiamo lamentarci. E poi c'è la stragrande maggioranza degli italiani la stragrande maggioranza degli italiani quelli che mettono la sveglia la mattina presto quelli che si spaccano la schiena andando a lavorare quelli che vedono anche le difficoltà che ci sono e che nessuno nega che però tutte le sante mattine sperano che questo paese vada un po' meglio e per cercare di farlo andare meglio non si limitano a sperare. Si tirano sulle maniche, si mettono in gioco e fanno la loro parte per dare una mano. A questa Italia qui io dico che la Salerno-Reggio Calabria è qualcosa più di un simbolo. Lo è stato l'Expo quando tanti dicevano non ce la farete mai. E noi ci siamo messi lì. E l'Italia ce l'ha fatta. È stata sulla variante di Valico che ci dicevano ah sì a Natale aprite la variante di Valico i commenti sui social e di quale anno e la variante di Valico è stata aperta come avevamo promesso mi è anche costata una cravatta perché Zini me l'ha tagliata. Perché l'Italia ce l'ha fatta. E quando abbiamo detto della Salerno-Reggio Calabria hanno indossato lo stesso broncio d'ordinanza e hanno iniziato a dire non ce la faranno mai non ce la faranno mai. Lasciatevi dire amici ringraziandovi per essere qui oggi l'Italia è molto più grande di chi vorrebbe fermarla. E la Salerno-Reggio Calabria è un simbolo. Ogni giorno ci sarà qualcuno che vi dirà che noi no non ce la faremo mai. E ogni giorno il nostro compito sarà quello di dimostrare che se tutti insieme lavoriamo nella stessa direzione se tutti insieme scegliamo come è stato fatto qui la strada del coraggio della legalità e la strada della fantasia anche nell'andare a individuare alcune soluzioni beh alla fine i risultati parlano dicevano che la Salerno-Reggio Calabria non sarebbe mai stata pronta da oggi la Salerno-Reggio Calabria è percorribile tutta con quel restringimento ma sempre a quattro corsie sempre a quattro corsie e dal 22 dicembre come dimostrerà il ministro del Rio sorbendosi 4-5 ore di viaggio la Salerno-Reggio Calabria sarà definitivamente consegnata nell'elenco delle cose fatte poi ci continueremo a investire continueremo a controllare a manutenere a fare quello che va fatto ma finalmente l'Italia che ce la fa dimostra di essere più forte di quelli che sanno soltanto lamentarsi di quelli che sanno soltanto dire no così non va per tutti questi motivi grazie ad Anas grazie a CMB grazie a Ghella grazie alla Regione Calabria grazie al ministro che ha fatto un lavoro straordinario ma grazie soprattutto a tutti e a tutti voi l'impegno che noi prendiamo adesso è quello di seguirvi e continuare a rompervi le scatole nei prossimi 5 mesi 4 mesi che mancano e di completare definitivamente la fase burocratica della 106 perché l'Italia continua a investire in Calabria e continua a credere che il futuro dell'Italia è strettamente collegato al futuro del mezzogiorno viva la Salerno-Reggio Calabria e viva l'Italia adesso chiamo i direttori lavori chiamo Zini e Ghella poi ovviamente saremo qua a settembre anche per firmare con i sindaci del Pollino un accordo per la viabilità alternativa alla Salerno-Reggio Calabria ma adesso apriamo questa bellissima strada il 5 ci vuole da una botta Armani non ti paga ecco appunto tengo le riserve sono buoni graziano che ci stai a fare vieni vieni Mario scusa il bottone rosso lo fate voi la CMB il bottone rosso no no tutti quanti sopra graziano il bottone rosso Mario il bottone rosso vai vai Ale adesso si vede che si apre che si apre il traffico adesso si apre dove è siamo noi siamo noi siamo noi adesso adesso ecco adesso grazie a tutti grazie a tutti